Scusa, Sabina, ma mi stai chiamando mentre mangi un panino nel bagno? No. Ah, mamma, questo! Anche in quarantena ve l'ho prestato. Ciao Marco, non ti sentivo più. Mi stavi dicendo? No, scusa, ma tu versi il vino così. Così come? A rate. Sì, deve respirare. Ho fatto il corso. Hai fatto il corso? Di come si versa il vino. Tu hai fatto il corso su come si versa il vino. Sì, da sommelier. Ah, sai che anche io ho fatto un corso da sommelier? Ah, sì? Sì, due anni, a Parigi, con Francis Michint della Alfa France. Conosci? Certo. Bene, allora sarai contenta perché così possiamo parlare di qualcosa di serio, dai. Senti un po', ma tu come te la sei cavata poi con lo stoccaggio? Con lo? Lo stoccaggio? Lo stoccaggio? Cioè, sto parlando naturalmente come tu sai dopo aver fatto l'analisi organolettica. Sai che non ti sento bene? Aspetta un secondo, Marco, perché mi sa che… Aspetta, eh, un ottimo… Siri… Stoccaggio organolettico. Non so se ho capito bene. Lo stoccaggio organolettico. Domanda interessante, ma non riesco a trovare una risposta. Cercalo, stronza! Non è carino da parte tua. Marco? Eh? Non ti sento bene… Sabrina? Eh? Allora, se non mi senti bene, basta che tu chiudi la connessione. Allora, devi pigiare il tasto quello che… Dove? Marco? Marco? Si è bloccato. Ma sta cretina mi risponde pure. Marco? Stavi parlando con me? Cazzo.